... Io lo spieghi e rimuo in sentenza, voglio mangiare, lontano da te la sensazione, lontano da te. Ma tu sei mio angelo? E non è che a te le putti si è rubato e tu sei tia. Non lo spieghi e lo spieghi e lo spieghi e lo spieghi. il da 14 ok Marcia! 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 Basta! Insomma! Non occuparmi! Non volevo mangiar! Non... Non vale! Non vale la notte! Basta mangiar, collega! Grazie! Chira! Chira! Chira!